Controllano il rato per cobranza di butto. C'è a margis 13 di novembre il rato Polizzi consistì di personale di Corso Polizia di Curaçao e con un'eglia che marcha sui conjuntamente con Airport Police e Unità di Curaçao Airport Partners e Ministero Público a tenere controllo di traffico e cobranza di butto in area di aeropuerto e controllano anche un luogo entro di un'ora per quattro a controlla un totale di 70 vehiculo e a parte un totale di 29 processi verbal ma differente infracciona e controllano anche lo vai continuare.